il redillo canza al sacco ci proviamo con la corsa primavera finalmente 4 aprile 2021 che è pasqua ma è soprattutto il mio compleanno ma è un portachiavi super drink sulla panchina di marmo perché dentro non si può punto dove passerà il giro d'italia fine maggio formaggio il caso di giulio romano io e graziano siamo vaccinati noi uomini del po abbiamo sempre i reni in barco sempre giusto così anche la bottiglia caldo un problema non ne restano mille dove dovrebbe andare ma che cavolo ci fai lì quando vuoi venire la porta è aperta allora cioè io queste serate fuori fino a tarda ora che ore sono? ma a sette e mezza di sera più o meno era l'ultima intervista termine fatica del melone campanile delle grazie faccio il sorpasso facciamo pensi grazie morirò di colesterolo da bignolata io sono il babbo natale della flacciglia grazie anche a te e famiglia